oh ma che è successo ora dove mi si riesce ah no allora siamo solo noi due nella lobby a tutto l'equipaggio i sette hanno intercettato le comunicazioni di Geno per la dottoressa Sloan crediamo che il sistema d'armamento dell'ordine raggiungerà la massa critica prima del previsto se non lo fermiamo subito distruggerà ogni forma di vita sull'isola a guidare la missione avremo il miglior capitano di meca di tutte le realtà lei prenderà i comandi mentre tu e la tua squadra penserete alle armi il ponte è tuo paradigma squadra armi ascoltate oggi metteremo fine all'ordine immaginario una volta per tutte il nostro obiettivo è il loro sistema d'armamento l'acceleratore squadra di terra rapporto squadra in stand by abbatteremo gli scudi per quando arriverete non per niente mi chiamano la leggenda ah ah ricevuto preparazione alla sequenza di lancio allora equipaggio ai vostri posti è che intero che cosa no che intero che cosa c'è chi che vuole il power ranger tu magge sistemi d'armamento pronti dobbiamo aprirci un passaggio tra le rocce ma quella non è l'isola dove ah c'è l'isola che bello non è l'isola che bello non è l'isola che bello è l'isola che bello così penso che si penso che si 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 mi chiamata mi chiamata liberatemi un passaggio leggenda credevo ci stessi pensando tu si 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 non saranno un problema non appena capiremo com'è ci pensiamo a noi come ha detto lui ci pensiamo a noi ci pensiamo a noi ci pensiamo a noi Oh! Piena potenza a raggio tracico. Piena potenza a raggio tracico. Piena potenza a raggio tracico. Piena potenza ai sistemi di recupero di emergenza. Piena potenza a raggio tracico. 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 Piena potenza 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 tracico. in questa faccenda in chi ora guardo quando sto guardando solo la cupola perché chiamata stavola c'è da te vedete no no qua il coso sta cupoletta nostra viola che c'è qua sotto dentro c'era dart e vedete che combattuta contro b1 porca buttare che bello giallo sul giro non posso è tornato paradigma chi sarebbe il punto zero è concentrato su genoa questa è la nostra occasione per trovarlo andiamo ok ora tocca di non abbiamo molto tempo quei cristalli faranno esplodere il punto zero distruggiamo ah qua il punto zero è quasi in cima l'ultimo stai per l'ultimo l'ultimo no mica voglio rivedere di come farsi meglio adesso è fatta è bello lo sconso stava combattendo contro b1 ci penso io bello veramente oh no è finito penso no è finito cos'è con continuo non lo so vedete i funghetti nooo no 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 no